Allora, ho scelto il liceo linguistico proprio perché sono molto affezionato alle lingue da quando ero piccolo, ottengo molti dei risultati con le lingue, proprio per questo. Perché mi piacciono molto le lingue e mi piacerebbe saperne parlare molte, fondamentalmente. Per questa scelta sono principalmente due. Il primo è perché mi sento bravo, sono materie che mi piacciono, le lingue, in principale, particolarmente l'inglese. E un altro motivo è perché penso che sia molto importante per il futuro saper parlare molte lingue e che di anche molti sbocchi nel lavoro, perché penso che tra una decina d'anni si sblocca principalmente all'estero. Ho scelto il liceo linguistico perché anche in questo periodo, nel 2016, è fondamentale sapere più lingue per reazionarsi con altre persone. Ho scelto il liceo linguistico Bertoni perché mi sono trovato molto bene in questa scuola. nei tre anni che ho passato alle medie qua, sono stato accolto bene sia dai compagni che dalla struttura che è molto accogliente. Oltre al fatto che gli insegnanti che troverò alle superiori, quindi al liceo linguistico, sono gli stessi di quelli che ho trovato alle medie, o almeno quasi tutti, e quindi mi trovo molto bene così. Perché il liceo Bertoni, dalle elementari che sono qua, ha sempre avuto un'ottima qualità e le professoresse di lingua che ho incontrato in questi anni alle medie, segnano molto bene e hanno un ottimo metodo con cui preparano i suoi alunni. Perché mi sono trovato molto bene anche alle medie, penso sia un'ottima scuola e gli insegnanti sono anche molto bravi e alle superiori avranno sempre gli stessi che il madrelingua, molto bravi. Ho scelto il liceo linguistico Bertoni perché essendo già anche da più piccola ho visto che c'è un grandissimo aiuto da parte dei professori e da tutta la comunità bertoniana e anche tutte le persone sono unite e ti aiutano a crescere. Non è solo un liceo linguistico ma ti apre più strade nella vita e quindi ti aiuta molto nel proseguimento degli studi e anche nella vita futura. Grazie a tutti.